Bene amici, video super flash, ma ascoltatemi con grande attenzione, mi raccomando, e soprattutto anche fino alla fine, perché parliamo di aumento pensioni in validità. Beh, ve lo ricordate? Era dicembre 2021 quando la ministra si espose in prima persona. Disse, i soldi ci sono adesso in Parlamento, alzare le pensioni. Ok, bene, sono certo che vi ricordate anche come finì, certo che sì, nulla di fatto, e tutto è rimasto tristemente, lo sappiamo, più che bloccato. Ma, attenzione, ieri colpo di scena. Fermi, prima di continuare, io sono Mr. Lul e ricordatevi un bel like che sarebbe stefaniano. Dicevamo colpo di scena e questa volta le dichiarazioni del ministro non arrivano a mezzo stampa, intervista sui giornali, ma direttamente, nero su bianco, sul portale, sul sito del Ministero della Disabilità, datate, come vedete, 7 aprile. Leggiamo assieme. DEF, Ministro Stefani, tra i DDL, adeguamento pensioni di invalidità. Tra i provvedimenti collegati al documento di economia e finanza, dice il ministro, è stato inserito un DDL che prevede proprio l'adeguamento delle pensioni di invalidità. Andremo così, continua sempre Stefani, a recepire l'indicazione della Corte Costituzionale che definisce, sapete no, inadeguato, grazie al piffero, un assegno mensile da 286 euro. Il mondo della disabilità attende da tempo tale intervento. Vero? Direi troppo tempo. Dunque, la Stefani sta parlando presumibilmente di aumento in dennità parziali e si spera anche di revisione dei requisiti per avere l'incremento al milione per gli invalidi totali 100%. Dunque, dunque, cosa succederà? Beh, intanto controllando il DEF, è vero, la ministra, il ministro non ha mentito. Come vedete, tra i collegati alla decisione di bilancio 2023-2025, c'è proprio questo DDL di adeguamento. Attenti però, 2023-2025, questo è l'orizzonte temporale e ad oggi, attenzione, nessuno, o almeno il sottoscritto, non è ancora riuscito ad andare a leggere nel dettaglio, no, questo disegno di legge. Dunque non c'è alcun ulteriore dettaglio rispetto al comunicato che abbiamo appena visto. Una cosa però è certa, il segnale è molto importante rispetto alle solite sparate cui siamo abituati. Diceva però mia nonna, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Infatti, se dovessimo giudicare dalla fine che hanno fatto le ultime promesse o esternazioni della Stefani, come quella di risolvere celermente lo schifo dei recuperi delle maggiorazioni sociali su RDC, beh, insomma, certo non è che potremmo andare a dormire sonni tranquilli. Qui però siamo ad un altro livello, c'è un DDL collegato al DEF. Mi pareva giusto informarvi celermente, anche perché, ve lo anticipo, preparatevi, inizieranno mille e mille articoli su questo possibile aumento, voi state sempre attenti, leggete per bene i contenuti. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio, spero che la rassegna veloce sia stata utile o quantomeno interessante. Buon weekend a tutti, per quanto possibile. Io, come al solito, vi saluto e ci vediamo presto. Grazie da MrLul.